Ciao a tutti i profondi di bananino e ora sarò qui nella cercheria a Varace. Saresti te? Asia. Asia chi? Figlia? La figlia di? Silvia. Sono amiche, lei è una tiktoker e poi sono con la figlia di? Alba. Allora aspettate c'è piccola polettina. Prenditi una Red Bull. Sonia. Giovanni. Lui non so chi è. Michael è il mio bimbo. Il nome di mio figlio hai? Sì? Sì, Michael. Lei è una lemon soda. Siamo qui al bar che stiamo prendendo da bere, io mi prendo un caffè per il momento, poi prendere qualcos'altro. Anzi, Alba ha voluto qualcosa? No, no, no. Siamo qui, ragazzi, che voglio far vedere le altre persone. Guardate quanti siamo allora, ragazzi, siamo tutti. E guardate che finalmente Alba ci siamo ritrovate. Ragazzi, sono troppo contenta, finalmente dopo andiamo al mare, metto i piedi in acqua. Io non ti dico le emozioni. È capitato perché la mia sfiga, va bene, lasciamo perdere. Sperando che non hai voluto qua la sfiga. No, 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 speriamo di no. Speriamo di no. L'unico bagno che potevo fare, raga, me lo si è giocata, va bene, lasciamo perdere. Ripannerò i piedi. Prendo io un bel salvaziente e andiamo in acqua. Io e te. Adesso ci prendiamo un po' di caffè, non è stato desattentivo, vediamo un po' inizio a sedervi. Adesso vediamo un po' in attività. Finalmente siamo arrivati e abbiamo trovato la Sonia e Follettina. Io non conoscevo Sonia, l'ho conosciuta adesso tramite Follettina. Non conoscevo Alba, l'ho conosciuta adesso tramite Follettina. Ogni tanto entravo nelle live. Entravo nelle live, però io non riconoscendola. Finalmente l'incontro speciale è arrivata. Un milione di follower. Un milione di follower. Non mi ricordo solo. Sonia Zacc. Voi la conoscete forse sicuramente. Allora. C'erano dei ragazzi che ti stavano facendo un po'. No, veramente sto facendo YouTube. Come si fa a taggare? Sto per dieci minuti. Fai così. Poi lo pubblico. Così. Ti devi taggare. Tutte e due, fai lei. Allora. Adesso prendiamo qualcosa da bere e ci rifreschiamo un po'. È meglio, perché non ci stanno anche come stai in quel momento quando ti fotografi. Magari ti stai grattando. Due ore, ma due ore e mezzo ti piace perché poi abbiamo trovato traffico, incidente. e poi abbiamo perso un po' tempo. Che cosa hai fatto? Taggate loro. Ah, devo taggare anche te. Anche me? Anche te devo taggare. Ah, che vita, che vita. Ciao. 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 Questa, questo? Adesso noi dopo andiamo al mare. Ah, sì. Fatti questa fine prima, sì. E tra poco ci vediamo. A me mi hanno bannato. Me lo aprono domani alle 10. Ma perché? Perché allora sono al mare, non me la banano. La bambina mette un top. No. Ah già. Hai violato le regole. Che non è giusto comunque. Ciao. Salve. Ecco qui. E così. Posso inquadrarla? Sì, sì. Ecco. Allora. Eccoci qua. Lei è la lemon soda. Ok. Questa te? Si sta servendo. Il caffè è mio. Io prendo un caffè. Il caffè Deka? Il mio, il mio Deka. Il mio è normale. Casale. Il noted. Cosa? La casata? No era naturale. Oh ok, assicurata. Lei va con il caffè. Lo zucchero? No. Lei non lo so. Io non lo zucchero. Ah ok. Lei mi ha fatto sport. Il casale Monferrato. Il casale Monferrato. Al Casale Monferrato. Lei è di Casale Monferrato. Il casale Monferrato. Facciamo ancora la foto. La postiamo. e niente allora noi da Novi siamo partiti per venire qua a Varazza al Mare e Tresogna è lunga ma io ero convinta che voi eravate a Genova pensavo che abitavo a Genova e infatti ho detto ma sicuramente penso che io abitavo a Genova ma avevi detto che abiti in Piemonte ma dove perché non l'hai principale a Novi Ligure a Novi Ligure è un po' di strada te la mando? si mandamela così io pensavo che abitavi verso Torino chissà perché avevo fatto questa idea io così io la mia idea può capitare ragazzi infatti Alba mi fa quando lei mi ha detto un'ora e cinquanta minuti e io ho detto ma da Genova qua ma c'è pochissimo come un'ora e cinquanta minuti beh infatti stavo lì sicuro stavo poco sono convinta che tu abitavi lì no e invece poi nel poca miseria io per questo ho detto loro andiamo a Genova e Apelli che ci sta meno strada e siamo più vicini e noi non ci siamo proprio io ho detto sicuramente lei ha pensato che io abitavo a Apelli eh sì è la pene di far vedere così e ce no non ci worry ma perché non me lo dà? dopo ci facciamo un bel bagnetto al mare ciao a dopo ciao ah madosca mi confondo sempre ciao papallini e banalini siamo qui al mare adesso dopo l'aperitivo che abbiamo bevuto il caffè non l'ho preso niente a mangiare come l'ho pensato che sono presi prima a mangiare e niente ci siamo fatti già il bagno adesso sono al mare vediamo se riusciamo a farvi vedere Sonia, Jack, Alba, Asia e tutto il resto che avevo fatto vedere prima sono al mare piccola polettina adesso vediamo se riusciamo a incontrare le faccio vedere non ci stanno vedendo ciao adesso mi sono messo un attore di pausa poi fumiamo una sigaretta e stare un po' al sole asciugarmi un po' poi rientrare hanno fatto già delle foto anche nel mare hanno chiesto le foto ad Asia a... mamma non mi ricordo mai a Sonia, Jack, scusate a Sonia, Jack la piccolina ha... ha... ha tutta la colettiva hanno già chiesto delle foto ha fatto le foto dentro il mare mamma mia che purtroppo è trovato più e... e... vieni siamo in questa spiaggia qui con questo tetto però vabbè dai la sabbia è la spiaggia più di sabbia bellissima è così per accendere comunque eh... si anch'io eccola mi sto andando a fumare e... Sonia, Jack molto anche lei un po' di pausa vedete ci vuole per la sigaretta e... ciao 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 ciao